Allora io ho fatto una carriera in nazionale per una decina d'anni, ho vestito la maglia azzurra, ho vinto parecchie maratone importanti italiane ma il risultato più grande è stato nel 1998 a Budapest con la medaglia di bronzo, poi il primato italiano nell'anno 2000 a Vienna con 2.23.47 che è stato imbattuto dalla Valeria Stranio di solo 3 secondi e poi il record italiano che è ancora attuale sui 10.000 metri che è 31.05 minuti ed è ancora dal 2000 a tutt'oggi imbattuto.